Un incontro commovente e atteso, quello fra Serena e Luna, durante la cerimonia d'accoglimento svoltasi nella sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini, residenza municipale, alla presenza del primo cittadino Francesco Miglio, dell'assessore alla pubblica istruzione Celeste Iacovino e dell'addestratore dell'associazione Il Collare d'Oro Gianfranco Cancelli. Luna, in questo caso opportunamente addestrato, può addirittura intervenire durante la crisi epilettica fino a prevenirla? In che modo? Allora, i modi sono tecnici, nel senso che il cane prima di una crisi epilettica va a effettuare determinati task comportamentali che noi insegniamo al cane, appunto o mandare un allarme o addirittura avvisare magari il caregiver che è in casa, i genitori, i amici, i parenti, eccetera. Poi successivamente durante la crisi, qualora non dovesse succedere un intervento da parte del caregiver o altro, il cane attua dei comportamenti di risposta invece sulle piessie, mettendo la persona in posizione laterale di sicurezza e nel frattempo chiama ulteriormente altri soccorsi tramite appunto un bottone di allarme che ha di predisposta in casa. Nell'attività appunto casalinga, durante invece l'attività all'esterno il cane fa un comportamento di staticità aspettando che qualcuno prenda appunto in esame il problema e presta soccorso a, in questo caso, a Serena. Cosa provi in questo momento? Sicuramente è più un momento di sicurezza perché prima non provavo, avevo paura pure di uscire. Se io ando durante le crisi e dico, ma do, ora esco, se io ho una crisi, paura, no, me la sento proprio. Adesso con l'una mi sento più sicura che mi sta l'una a fianco, giustamente. Eppure anche un'amica in più. E poi mi dà tanto affetto, un affetto che nessuno mi può dare a volte ai miei genitori. Oggi Luna è venuta a scuola, ha fatto il suo primo giorno di scuola e è stato davvero molto positivo, sia per Luna stessa ma anche per tutto l'ambiente scolastico, che si è arricchito di una presenza che valorizza l'istituzione e anche il lavoro che insieme abbiamo fatto. Luna non è entrata in classe direttamente, ma la classe stessa è stata preparata dall'addestratore di Luna attraverso degli incontri, oggi in maniera specifica un incontro pratico, per poter creare un ambiente favorevole alla presenza di un cane d'assistenza, ripeto, per la prima volta in una scuola a livello nazionale. Sì, una bella pagina di grande altruismo nella nostra comunità, la quale non è rimasta insensibile all'appello lanciato dalla famiglia Tricarigo e tutti, ognuno per quel che ha potuto, ha cercato di realizzare il sogno di questa bambina, di potersi, cioè liberamente, aggirare in città, non avendo limitazioni, potendo vivere la sua vita al massimo delle sue possibilità. Con questo cane Luna, che è addestrato appunto per dare assistenza alla famiglia e con l'amministrazione comunale, questo bel momento di gioia e di soddisfazione per la piccola Serena, una bella pagina della nostra città di cui andiamo orgogliosi e fieri. La cerimonia è stata un'occasione importante di riflessione e sensibilizzazione rispetto a questa patologia, presenti anche mamma Morena e papà Emilio, ai quali abbiamo chiesto come è stata accolta in famiglia Luna. Le nostre aspettative erano grandissime nei confronti dell'arrivo di Luna. E' effettivamente già il soltanto 24 ore che con noi ci ha riempito il cuore di speranza, speranza di una libertà nei confronti di nostra figlia adolescente. Infatti voglio ringraziare le donazioni che ci sono state per questo progetto di Luna e Serena che ci hanno lasciato un po' di stucco, come si dice. Voglio ringraziare amici, parenti, anche donazioni anonime che sono arrivate parecchie, perché questo progetto comunque ha un costo, un cane addestrato non è una cosa semplice. e in particolare voglio ringraziare anche il Movimento Unito per San Severo che hanno fatto anche loro un grande lavoro, ci hanno fatto una bella donazione e hanno sponsorizzato anche molto la problematica.